Viaggio ai confine di sé, in parole e voce. È il titolo di un ciclo di seminari esperienziali in cui si tratteranno varie tematiche che ci serviranno per conoscerci meglio, ma lo faremo in maniera molto pratica utilizzando due strumenti specifici come linguaggi artistici che sono il teatro e la scrittura. Ad accompagnarmi in questa avventura Christian Bergamo, uno scrittore professionista, andremo a lavorare insieme a voi per capire meglio quali sono le vostre risorse legate ai ricordi, oppure il nostro rapporto con gli altri, o il rapporto con se stessi, oppure quali sono quelle cose che non abbiamo mai voluto dire a nessuno, che sono lì, che galleggiano nella nostra mente e che vogliamo tirare fuori per vedere insomma che cosa si può creare. Ci saranno quattro seminari esperienziali, si possono seguire tutti quanti o anche singolarmente. La cosa importante è che sarà un viaggio divertente dove andremo a conoscere noi stessi.